Oggi è stato il primo giorno di udienza preliminare del processo che vede coinvolto il leader d'Italia Viva, la sua fondazione Open, per l'accusa, avrebbe operato come partito violando la legge. Oggi è cominciata l'udienza preliminare per il processo Open, in cui è coinvolto l'ex premier e ora leader d'Italia Viva Matteo Renzi, che è andato in tribunale a Firenze. Si tratta del caso della fondazione Open. Per l'accusa questa, mentre il senatore era capo del PD e presidente del Consiglio, avrebbe operato come un partito, sostenendolo senza che venissero rispettate le norme sui finanziamenti ai partiti. In particolare sotto la lente dei magistrati ci sono 7 milioni di euro raccolti dalla fondazione. L'ex ministro Luca Lotti, poi, sempre secondo l'accusa, avrebbe favorito con interventi normativi alcune società finanziate da Open, come la Toto Costruzioni e la British American Tobacco. Nel registro degli indagati ci sono 11 persone, tra cui anche Maria Elena Boschi. I reati ipotizzati vanno dal finanziamento illecito ai partiti, alla corruzione, passando per riciclaggio e traffico di influenze. Per l'accusa i politici coinvolti avrebbero ricevuto in tutto 3 milioni di mezzo di euro tra il 2014 e il 2018 per il sostentamento della propria attività in Parlamento e non. Renzi aveva chiesto alla giudice Sara Farini di essere interrogato appena possibile, spiegando di non fare come Berlusconi. Oggi davanti ai cronisti ha espresso le sue critiche o l'inchiesta. Per la Cassazione ha spiegato il processo Open si dimostra per quello che è cioè uno scandalo assoluto. La Corte ha detto con chiarezza per cinque volte che l'operato dei magistrati di Firenze ha infranto le regole. Il riferimento è ai sequestri di PC e cellulari. I PM di Firenze non hanno rispettato né la Costituzione né la legge né le sentenze della Cassazione, ne ha aggiunto l'ex Premier che ha aggiunto che per questo dovrebbero essere processati.